Bella a tutti raga, qui è AventoNin87 e oggi siamo tornati su Kingdom Hearts Con il microfono nuovo che sto facendo test su test su test Allora, andiamo sulla spiaggia E laggara, raga, laggherà sempre, ho paura Oddio, dio Io sono abituato a comandare con queste Allora, dovevamo trovare dei tronchi per cairi Allora, tronco, si Poi, no, no, non riesco a accusare Vediamo un attimo di spaccare un po' di guli Quindi, andiamo da Waka Waka Lo so io come va, palla C'è una sfida, certo Ehi, giocare da bambini, io parlo di una cosa seria Allora No, allora, non devo fare così, devo Attenzione, ero lì, eh, ero lì, raga Non lo riesco a prendere Non lo riesco a prendere La tattica è quella, raga, ma non lo riesco a prendere Oh, no, stronzo Allora, raga, non è così che bisogna fare Oh, l'ho preso Già, io non posso ancora evitare, è vero Non posso ancora schivare Uh, bitch Bitch Con graga, ma c'è sto qui per farmare un po' il tino Perché se no, quando ritorno da Yates, tipo, mi spaccano il culo a morte Per questo sto un po' livellando con Waka Waka Oh, l'ho preso ancora L'ho preso ancora E ho livellato Guarda, guarda, mi si incazza Fa davvero male? Eh sì, lo so che fa male Quanto mi manca... Aspetta, qual è start? Questo Quanto manca a me per livellare Allora, l'ho preso anche a livellare Mmm Però Potrebbe andare bene, ragazzi Potrebbe andare bene Allora, vediamo di fare fuori un Seiko Ah, il breeze feels great Vero, Seiko Ricordatela perché morirai Che state com... No, le voci, le voci Non riesco a distinguere le voci dei personaggi A fare le voci dei personaggi Che state combinando ultimamente? Non vi vediamo mai Ci sfidiamo? Finalmente, adesso sì Utilizzo il vaso di CPU da parte di Fraps Lo so Voi non lo vedete, ragazzi Ma sta apparendo scritto Don't, non ho capito Oh, oh, oh Seiko Ma che cazzo fai con quella corda? Tu dovresti impiccarti con quella corda Non massacrarmi Ok, aspetta No, mi ha colpito Stronza Seiko Lo sai che sei morta, vero? Oh, 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 oh Attenzione, è un po' che incazzatella Oh, oh, oh Parata Oh Vai Seiko Seiko Prova a fare la figa Oh, attacco Ha aumentato l'attacco, ragazzi Comunque è giusto per farmare un pochettino Non è Non è Sì Perderai anche la tua vita Seiko Allora Vediamo di salire E di andare Anche dall'ultimo Bimbo minchia Da fare fuori Che dovrebbe essere Tidus, se non sbaglio Proveniente da Final Fantasy Eccolo La corda La corda L'ho trovata, ragazzi Seiko Tieni Tu ho trovato la corda Vedi di usarla per bene Mi raccomando Però devi fare in un poste alto Tipo lassù in cima Dove non ci sono appigli Vedi? Proprio Lassù In cima a quell'albero O anche lì dove c'è il coso Dove c'è il corri mano Seiko Pensi possa andarti bene? Buon per te Seiko Allora Tidus È il momento Sì che mi sento fortunato oggi Ehi Sora Ti vedi con me L'hai voluto tu Tidus Non perderò Andrai giù Tu andai giù Stronzo Oh 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 Però spacca i culi Però Tidus spacca i culi Tidus spacca i culi Sai Ho operato E mi ha dato pure Tech 2 ragazzi Quella addirittura Tech 2 No 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 Oh Dio 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 Spaccalo Spaccalo Spaccati il culo Oh Vai 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 Boom No Speravo di farlo fuori Oh Non so com'è successo ragazzi Non so com'è successo Oh man Oh lag Super lag Quanto mi manca per il livello dopo? 38 Sì sì Io aspetterò di far fuori un po' di nemici veri Piuttosto Allora Dovevamo trovare poi La tela Giusto? La tela mi sembra di ricordare Un gabbiano Un gabbiano La tela se non sbaglio Era qua Giusto? Era Più o meno in questo posto Dove deve impiccarsi secco Eccola Eccola Tela A posto C'è qualcosa altro? No Non mi Gira la visuale ragazzi Vorrei che me la girassi Ma non me la gira No Si è appeso Sora Sora non ti devi appendere Ok Solleva E lancia a casa Non si è spaccato? Ok Lo spaccherò io Ah Allora Qua Vedi se li è qui 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 ha Perché non so parlare ragazzi E vediamo di spaccare un pochettino il culo a Riku E sì ragazzi Allora Prima prendo il tronco Così Kairi può metterlo Per fare la zattera Allora Riku Cosa mi racconti oggi? Eh pre Mi sa che se velocizzarmi Se hai perdonatemi Ho nato Se muoio Hai preso tutto con le serve Per la zattera? Io ho dato tutto a Kairi Tutto che cosa Riku? Ehi Sora Che ne dici D'un duello veloce? Prendi la spada D'accordo ci sto Questa volta Si decide il campione D'accordo? Sei pronto? Ok ragazzi Con lui è tutta una cosa di te Porca troia Con Riku è tutta una cosa di tecnica Mi sto da occhare È tutta tecnica Riku È tutta tecnica No Allora Con lui è Due colpi e via No 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 Aspetta voglio provare Una tecnica Che ho visto fare Oddio Questa tecnica funziona davvero Sì Fatti avanti Oh si dirmi Fatti avanti Riku No 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 Non posso evitare Ragazzi Non posso Ho Un Un Cosa in computer Non riesco a vedere Quanta vita ho Me lo sta coprendo No 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 Che culo di merda Non mi ha preso No 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 Oh Ho fatto pure a Dernando 5 Corco Ok Non è che Bebbe Quanto tanto di vita Quell'affare è andato Quell'affare Me l'avo prima Andato via Oh Eh C'è esperato Eh Riku No 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 Posso cadere di sotto Se cado di sotto Perdo Perché me lo ricordo Ragazzi Se cado di sotto Perdo Con lui sono due colpetti E via Oh Oh no no Riku Riku Lo sai Potrei Aprirti Il culo Vero No 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 Rischio 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 tantissimo Oddio raga Raga Se vinco Se vinco Dovete fare Voglio un applauso Vieni qua Vieni qua Riku Vieni Vieni Oddio Oddio Stavo già morendo Stavo già morendo Oh Il gioco ha avuto Un attimo di crash Ho vinto Siamo 1 a 0 Non lo rifarò mai più Ragazzi Non lo rifarò mai più Cristo Perlomeno Mi ha ricenerato La vita Allora Aspetta Kairi Voleva Due tronchi Una corda E una tela Dovrei aver preso tutto Se non mi sbaglio Scusate un secondo Ragazzi Ho un attimo Un dubbio Ma Noi vogliamo Costruire una zattera Per andare via E dobbiamo Costruircela Per conto nostro Ma Non abbiamo Già tre barche Con noi Ok ragazzi Io ho provato Io ho provato A tornare da Kairi Vediamo se ho tutto Grazie Sora Anch'io ho trovato qualcosa Tieni Gran pozione Grazie Kairi Grazie Sei stanco Va che smettiamo Sì andiamo a casa Dopotutto È questa zona di isola La nostra casa Vabbè Già Ci sta facendo tardi Finiremo domani So Kairi Isola 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 Could be We'll never know By staying here But How far Could a raft Take us Who knows If we have to pensiamo di qualcosa di altro quindi pensi che arrivi a un altro mondo cosa farei qui? beh beh non ho pensato davvero è solo ho sempre chiesto perché siamo qui su questa isla se ci sono altri mondi qui perché abbiamo finito su questo e pensi che ci sono altri mondi quindi la nostra è solo una piccola di qualcosa molto più grande quindi potremmo essere così facilmente finito in un'altra parte certo? non lo so esattamente questo è quello che bisogna andare fuori e trovare solo stare qui non cambia una cosa è la stessa vecchia quindi andiamo non lo so tu hai pensato molto molto lontano non lo so grazie a te se tu non veni qui probabilmente non pensi mai di questo cari grazie grazie tu è benvenuto grazie 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 Ahahahah Ahahahah Good morning, Your Majesty! Oh It's nice to see you, Nespa! What? 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 Oh What? What? Oh What? Oh Good morning, Ladies! What? 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 Felizji What? Evitari What? How? The Patrol What? 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 Che cosa altro vuoi? Aspetta un attimo Ah ok Waka è lì Perfetto Allora Vediamo di spaccare il culo Anche a Waka E magari A Waka e a Titus E magari completiamo sta parte Sta registrando ancora 8 minuti Sì sì posso farci Sì sì lo farò nella prossima parte ragazzi Non c'ho più tempo io Probabilmente voi vedete qualcosa in 18 minuti Alcosa è simile ma È un inferno ragazzi Sto registrando da 20 minuti circa Ehi Sara vuoi qualche pezzi di consiglio? Combattiamo un po' Magari Non ho bisogno di consigli No non posso No oggi non potrei Ah non resisto Forza Show me your moves Ah ah Airshot bitch Oh 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 Ah che stronzo Vedete ho mai bisogno di fare lui Ma vaffanculo Ah Ah no ci speravi eh Speravi Boom Headshot Ah Vedi come si fa? Raga sono troppo facili È vero che Sì Non ho capito nulla È vero che sono i primi nemici Ma È troppo facile dai Allora aspetta Fermo Di qua Di qua Non riesco a controllare A visuale con i tasti R ed L Allora Vediamo qua l'Aron Tidus Allora ragazzi Volevo parlare di questo io No su di me doveva contare Che sono io l'eroe Ancora una volta Andiamo Allora Prima No 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 Ok Allora Voglio fare Prima con lui E basta Oh Stronzo Stronzo Oh Mi ha già seccao la vita Guardalo Mi ha già seccao Stronzo Ma che cazzo vuoi fare Oh Ce l'ho fatta Vai 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 La vedo brutta La vedo brutta La vedo brutta Vai 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 Raga è solo una questione di Chi vince per primo Vai 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 Ce la posso fare Seccalo Seccalo Grazie Quanto 6 minuti Cosa c'è Ora proviamo a fare Vuoi 3 contro di me Vai Vuoi provare a farli Tutti e 3 ragazzi Allora No 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 Troppi troppi Io ce la posso fare Ce l'ho fatta Sul remix Cazzo Cazzo No non ce la posso fare No 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 L'ho disattivato No 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 Sono fottuto eh Sono fottuto raga No 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 Sono morto Sono morto Lo sapete No Ci ho provato Ci ho provato A colpirti Stupido stronzo Ci ho provato Vabbè No non voglio fare questo Sono incontrollabili i comandi Sono incontrollabili Vabbè ragazzi Io vado a salvare E direi Anzi no Vi do l'addio In questa Parte Con questo panorama Bellissimo Oh Che meraviglia Qui a 2887 E' la seconda parte Di Kingdom Hearts Direi potete lasciare Mi piace Un commento E iscrivetevi al canale Ci vediamo nella prossima parte Di Kingdom Hearts Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.